un giorno oggi è domenica il 18 di giugno 2017 abbiamo ancora la luna in riete per cui fuoco andare avanti laddove nessuno mai c'è stato con grande passione prove cose nuove via dicendo però quello che è molto importante oggi che abbiamo mercurio in gemelli per cui aria che non sta mai ferma estroversa che fa faccia a faccia con saturno in sagittario che è fuoco anche lui non si ferma mai e anche lui verso l'esterno per cui ci troveremo in situazioni dove ci sentiremo un po che ci hanno un po che usano bocca non possiamo parlare e con la luna in ariete questa cosa può essere un po il grilletto che ci perdiamo la testa qui state attenti e buona domenica ciao ciao